Ciao ragazzi, ho fatto una scoperta incredibile. State finalmente per vedere la vera faccia di Vivi. Vivi è questo rivoluzionario così anonimo, che non si sa chi sia, che sta dirigendo queste povere pecorelle marroni, come le chiamo io, le pecore nere, non proprio pecore, però pecore nere, che io le chiamo pecore marroni, che purtroppo si credono, anzi danno delle pecore ai morti, invece di chiamarli morti, i zombie, e loro si credono vivi. Infatti l'organizzazione loro si chiama proprio Vivi, cioè uno che sta dormendo, proprio gli occhi di uno che sta dormendo, che effettivamente su Telegram loro si firmano con questa sigla qua. A fianco io ci ho messo la faccia del morto, perché è la stessa cosa. State adesso per scoprire, io dopo tanta ricerca e tantissimo proprio sforzo, sono sforzato al cesso prima e sono arrivato a capire, a vedere col mio occhio così interno, interiore, chi è Vivi veramente ragazzi. Lo scopriremo fra poco la vera faccia di Vivi. Intanto vediamo come questo anonimo, che non si sa chi sia, dirige queste pecorelle marroni e gli dice, leggeremo questi dieci punti adesso, dove il Big Brother dice a tutta questa gente che è un po' incazzata con la situazione, che ancora magari, qualcuno potrebbe avere anche preso il VV, ne è già doppia dose. Ah, non dovevo dirlo forse. Non dovevo dirlo. Quindi, vediamo, dieci buoni motivi per essere fieri, dice lui, di definirsi merda. Ma come, merda? Ma no, hai letto male, lui ha scritto NOVAX. Allora, cerco di farvi capire. Ah, quindi lui sta programmando questi dementi che lo seguono? Loro non capiscono chi sia, ma io adesso rivelerò chi è lui veramente. Ad accettare che qualcuno, cioè il sistema, gli appioppi quest'etichetta di NOVAX e se tu accetti quest'etichetta, loro hanno già diviso ormai, no? Come ci sono le divisioni tra uomo, donna, bianco o nero. Dimmene tu, quante, terapiettista, non terapiettista? E c'è anche VAX e NOVAX. Se tu accetti di far parte di queste due categorie che loro hanno già predeciso loro, no? Tu sai già come andrà a finire. Perché è pericoloso farsi chiamare, farsi mettere un'etichetta da quest'altri? Perché io ho dato tutta questa conoscenza purtroppo ad una persona che non riesce a capire cosa gli ho detto. E siccome queste perle non voglio che se ne vadano proprio nel vuoto, le sto ripetendo anche a voi. Allora, guerra, Ruanda, negli anni 90, hanno detto alla popolazione guarda, metà di voi è di una certa etichetta, Tuzzi, e metà di voi siete Utu, non siete esseri umani tutti e due. No, siete Utu e Tuzzi. E con la televisione dicevano che loro sono peggio degli scarafaggi. Quindi, se tu accetti di farti chiamare NOVAX e di essere fiero, dice lui, e lui adesso ci dirà di dieci motivi questo Big Brother, che in realtà è il sistema stesso ragazzi, però questa gente purtroppo è morta, non riesce a capire. Più che altro non è che è morta ragazzi, è lo stesso concetto del sindrome di Stoccolma. Quando tu, quando il cervello, per esempio il cervello fa trick del genere incredibili ragazzi, c'è stata gente che è stata incastrata con la mano in montagna e se non si staccava la mano tagliandole sarebbe morta dal freddo in montagna, nessuno poteva salvarlo, ebbè il cervello in quel momento là ha staccato il dolore. Mentre lui tagliava la mano, siccome nella sua testa lui sapeva che se non tagliava la mano o lo sbranava qualche orso o sarebbe morto de freddo, il cervello boom, passa in modalità niente più dolore, non c'è dolore, vai. È la cosa più dolorosa che puoi fare, se tu lo fai non in quella situazione là, che è vera cazzo, che devi uscire da là se non mori, il cervello non te lo fa tagliare la mano così come se niente fosse, ti dà un sacco di dolore, fa male cazzo. Allo stesso modo questo lo chiamano sindrome di Stoccolma. E questa persona mi prendeva in giro quando gli spiegavo queste cose. Come funziona? Quando il cervello, ragazzi noi siamo stati presi dalla libertà, ma noi non siamo mai stati liberi, però quando tu sei preso, non sai come vivere con le tue forze, ti hanno messo in questa gabbia che chiamano civiltà, dove tu per uscire dovresti lasciare il supermercato e tutta la bellezza, la comodità della città e andare a zappare la terra. Siccome questo la gente non lo può fare, non è nemmeno un'opzione, come per quella persona che si era incastrato nel sasso la mano, non era un'opzione per lui stare lì, perché sennò sarebbe morto. La stessa cosa per la gente che adesso si prende il V, ragazzi, per loro non è un'opzione non prenderlo, perché non saprebbero come vivere, non saprebbero farlo. Quindi, ritorniamo alla guerra ruanda, una volta che loro gli hanno messo questa etichetta, loro dicevano che l'altra razza, l'altra etichetta che hanno messo queste due tribù in Africa, le rispettive radio dicevano alle loro pecore, le radio erano controllate dall'alto ovviamente, dicevano loro sono peggio dei scarafaggi, dobbiamo ammazzarli. La stessa cosa quando ti mettono l'etichetta no vax deficiente, non lo devi accettare, coglione, non lo puoi accettare. Annaggia il cazzo. Come cazzo fa ad essere così scemi? Guarda chi gli dice sto mostro, questi sono pericolosi questi mostri, guarda chi gli dice fieri di definirsi no vax. Incredibile, incredibile. Io non so se YouTube lascerà questo video, questo, eh, se leva questo video, questo canale è finito, quindi se per qualche motivo riesci a vederlo, salvalo subito, non si sa mai. Eh, quindi vediamo un po' perché mi sono mosso qua, vediamo se la comprensione non è giusta, non mi vedete più. Ok, quindi io stavo parlando adesso chissà se mi stavate vedendo, ok. Ah, forse avete visto la, sì, avete intravisto l'identità di Vivi ragazzi, eccola, a grande richiesta, il grande momento, state per vedere chi c'è dietro il WC adesso, boom, eccolo. Era il commissario Winchester qui, era lui che dietro al computer, no, dà questa direzione a questi dementi che gli stanno dietro, purtroppo non, non riescono a capire, e infatti ho fatto, questo logo l'ho fatto io, questo della ciambella, proprio per prendere in giro questa persona che purtroppo fa parte di questo gruppo, eh, però siccome anch'io ho fatto parte di gruppi di sette alla fine, di sette, queste sono sette, pericolose, io ti voglio bene, persona tu sai di chi sto parlando, per questo sto facendo questo video, però purtroppo sei completamente cieca, non riesci a capirlo, ma, ma non, non ti sto, non ti voglio offendere assolutamente, anzi, faccio questo video perché ti voglio bene, però tutto questo che sto dicendo nel video te l'ho già detto, ma non, da una parte d'entrata, anzi manco, proprio non sentivi niente. E siccome quello che ho detto mi è sembrato importante da dirlo, faccio un video così almeno quelle cose, magari c'è, però il problema è questo ragazzi, quando una persona è così debole da pensare di combattere invece che, invece di combattere una guerra, perché questa è una guerra ragazzi, invece di combattere la guerra come si deve, a noi ci hanno messo in testa che dobbiamo essere pacifici ragazzi, pacifici, e ce lo dicono questa gente qua che è bella armata, questi qua ce lo dicono che dobbiamo essere pacifici, dietro a questo nickname, senza voce, senza un cazzo, e questi dementi gli vanno dietro, è come se il lupo per sbrannare la pecora gli dice, pecora, tu non devi combattere perché io devo essere capace di azzannarti e ammazzarti senza problemi, pecora, questa è la stessa cosa, e quindi la situazione è questa, siccome noi siamo stati ammosciati al punto che non è concepibile per noi combattere come si deve questi mostri che non si fermeranno mai, cosa facciamo? Cadiamo in questi gruppi, ma scusa ma tu persone che capisci con chi sto parlando, è concepibile per te che il sistema in una situazione del genere che proprio stanno facendo una cosa enorme, questo upgrade che stanno facendo al sistema, ti viene così che vagamente l'idea che forse il sistema potrebbe creare gruppi controllati per dire persone che potrebbero indirezzare i gruppi al loro piacimento, è concepibile questo per te? Quali potrebbero essere questi gruppi? Dimmene qualcuno, non lo so, per me tutti quei gruppi che parlano di combattere in modo pacifico, purtroppo io sarei per la pace ragazzi, però l'essere umano non è pacifico, ti devi difendere perché sono animali, cazzo, non puoi, anche io sarei per, ah, volevo essere bene tutti quanti, ma purtroppo io sono stato pugnalato da anni alle spalle, da anni dalle pecore, tu sei buono e loro ti pugnalano sempre, ad un certo punto capisci, mi sa che non devo essere buono con questi, questi sono bestie, non sono merita di essere buono, capito? Questo è l'essere umano, e attenzione non sto dicendo che io sono un angelo, per questo bisogna essere, bisogna stare attenti ragazzi, non bisogna sognare che il mondo è bello, no, purtroppo questo è una cazzo di inferno, finirà a un certo punto, ecco, non sta lì a cosa ha più di tanto, però ecco, se magari passi questa cazzo di vita senza succhiacazzi e senza essere preso in giro, sarebbe bellissimo, quindi passiamo ai minchiate di questo, quindi mentre leggo questo, immaginatevi che il sistema stesso gli dà questi ordini a questi dementi e questi dementi vanno in giro per strada e scrivono, ahi vi fanno male, quindi loro cercano di parlare ai morti, prima di tutto, porca troia, come gli ho detto a questa persona, è ancora legale parlare alle persone, ci puoi parlare alle persone, se tu fai una cosa così fredda, la persona che cazzo, e poi un'altra cosa, questo è un concetto molto, molto importante, eh no, mi ha detto questa persona, dobbiamo combattere in questo modo perché questa è una guerra psicologica, e quello che funziona con le pecore è la ripetizione, quindi la propaganda, e io ho spiegato a questa persona, non è che funziona la propaganda, perché anche noi possiamo fare la nostra propaganda, ed è liberamente accessibile a tutti, ma la propaganda dello Stato è backed up, non c'è altro modo di dirlo in italiano sta cazzo di cosa, è protetta questa propaganda, nel senso che lui ti mette la propaganda davanti, però dietro, dietro la schiena c'è una pistola dietro, che sono le multe, che non ti fa più entrare al lavoro se non fai quello che vuole lui, cioè accettare la propaganda, e questa pistola, lo schiavo lo sente, come quello che si è incastrato la mano lì in montagna, sente la morte che sta arrivando mentre si sta abbassando il sole, ma il sole si abbassa o se ne va, questi sono misteri che prima o poi scoprirei, se ne va nel senso perché i terapeutisti dicono il sole se ne va, però non cambia dimensione, questo non si spiega, io non sono per nessuna parte perché ogni volta che questi ci dividono in due fazioni, a me mi viene sempre il dubbio, c'è sempre l'inculata perché sono le facce della stessa medaglia, le divisioni che fanno, sono funzionali a loro, le divisioni, servono a dividere, me ne frega un cazzo di che forma è la, io c'ho il cazzo in culo adesso, non me ne frega un cazzo della forma della terra adesso, quindi la propaganda, non è che tu dici, ah ma presentiamo la nostra propaganda allora funzionerà, ma non è una guerra di propaganda perché come ho detto lo Stato, quindi tu dici ok, loro fanno propaganda, facciamola anche noi, quindi scriviamo nei muri che i vi fanno male, ma non hai capito un cazzo però purtroppo, come ho detto, la loro propaganda, c'è una pistola dietro la schiena, che se non la rispetti, se non la accetti e siccome lo schiavo stesso sa che l'alternativa sarebbe quella pistola, insomma quella andare contro tutti, fa se mette etichette di complottista eccetera eccetera, ed è la stessa cosa, il suo cervello per lui è un lavoro impossibile da fare quello, di mettersi contro tante persone, la pecora non è in grado di vedere a lungo termine, cioè vedere nella sua testa possibilmente la vittoria per dire, se si fa un minimo di sforzo, loro non lo fanno mai e mai lo faranno, quindi se tu ti aspetti che le pecore, i morti scusa perché loro sono i morti, le pecore sono questi che si credono svegli, dobbiamo riaggiornarci con l'etichetta ragazzi, pecora sono questi minchioni che si credono rivoluzionari, che girano sul telegram e girano i truthers come li chiamano in inglese, truthers, questi sono le pecore, ok, che io chiamavo prima pecore marroni, cioè pecora da merda, le altre che prima chiamavamo slash pecora slash zombie, ora sono i morti ragazzi, dopo il 2021 ragazzi, loro sono i morti adesso, che cazzo vuoi, se non l'hai capita adesso, loro sono i morti, quindi le categorie sono i morti, perché parlare di morti, le pecore marroni pecore, che si credono svegli, vivi, e noi, noi siamo veramente pochissimi, quindi, un'altra cosa, quindi propaganda, perché non funziona la propaganda, per dire, perché lo schiavo quando tu vai per strada non ti parla per esempio, io mi ricordo in Albania la gente si parlava, ci potevi parlare con la gente, non era così sfredda come qua, perché qua, e anche lì in Albania adesso dopo il comunismo, lo Stato ti dà tutto, e tu non hai bisogno di parlare con la gente, perché tu prima magari parlavi con la gente così, magari, tu mi fai in favore a me, io ti faccio in favore a te, ah, vogliamo sì bene, bla 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 bla, e riusciamo, quando non c'era uno Stato forte, tu, nella comunità, comportandoti bene, potevi essere aiutato nella vita di tutti i giorni, no? e potevi sopravvivere, piano piano, non ho tanti problemi, però potevi sopravvivere, e questo perché, questo succedeva in Albania perché lo Stato non era così invadente il comunismo come qua, come adesso qua che ti dà addirittura i soldi gratis, proprio perché ti vuole tenere per le palle, no? Quindi una volta che tu vivi in un sistema che ti dà tutto, tu non hai bisogno di parlare con la gente, per questo siete così freddi qua, che fa veramente paura questa cosa qua, di quanto siete freddi, sembrate bambini proprio, io una cosa che ho visto, vi ricordo quando sono venuto qua in Italia, parlo degli anni 93, è la freddezza e questo modo infantile che avete di comunicare, poi questa cosa è passata anche a tutti i zombie albanesi che sono venuti qua, sono diventati come voi e tutto quanto, però anche in Albania adesso sono messi male perché ragazzi dovete capire che questa gente qua ha tecnologia per programmarci in modo che noi nemmeno lo capiamo, però comunque sia, questa guerra che noi stiamo vedendo adesso, solo la fine, questa è la fine della guerra ragazzi, questo come ho detto a Fabio credo, su Telegram, loro in questo momento adesso, dopo il 2020, loro ci avevano riempito di botte per anni e anni, adesso devono solo fare pum e noi cadiamo, infatti noi siamo a questo punto adesso, devono solo darci il colpo di grazia così, pum, con un mignolo proprio, pum, e noi siamo caduti, la vera guerra ragazzi è stata fatta con il 69, le minigonne, ah divertimos, ah la vita è così leggera, così bella la vita, ma divertiti, guarda, tranquillo, bisogna essere buoni, ah la la la, quindi ti levavano dalla testa il fatto che tu vivi in mezzo ai lupi, e tu quando c'è la guardia abbassata, ah ma arriva come sta arrivando nel 2020, la sbranata, perché siete morti ormai, ti ha stancato il leone a seguirti, è morta e sbrana, e se ne fai più manca camminare, perle ai porci sempre, però io lo faccio come per una sanità mentale mia questi video, altrimenti impazzisco, come ho detto in un video che poi nemmeno ho editato, ho tagliato tutto perché era troppo negativo, l'unica cosa fa veramente, ma anche se l'ho ripetuto in un altro video, è un deserto questa cosa qua, è inutile che stai lì a parlare ai morti, cioè parlare ai morti come sto facendo io di nuovo adesso, è veramente inutile, però questa è una debolezza mia, che ancora non riesco a trovare il coraggio per o farmi fuori, o farsi fare fuori da questi mostri che appena cerchi di fare il vivo, ti ammazzeranno subito, quindi io adesso sto facendo questi video così buttati là nel niente, in questa marea di zombie che vedono il video e mettono solo il like, e non dicono un cazzo, così buttato, ma io capisco eh, capisco perché neanche io sono un coraggioso ragazzi, perché altrimenti invece di fare video, non c'è più da fare video ormai ragazzi, c'è solo da fare, tu dici, eh ma cosa puoi fare tu in quel modo che vuoi fare tu, che cazzo me ne frega, se tutti si buttano al ponte che me devo buttare pure io, zombie, coglioni, eh ma non puoi, non puoi, perché non è concepibile, ma sti cazzi, e quindi quello è concepibile, giocare con la pistola di carta, come state da favore, andate con le bombolette, devo andare a comprare la bomboletta, mi devo iscrivere a Arminchione qua a Vivi, e devo leggere i documenti suoi, le minchiate dove mi dice che devo essere fiero di essere un Novax, fatta un affanculo per Novax, coglione, ovviamente non mi dovrei incazzare, perché dietro a Vivi c'è Winchester qua, guarda, è vicino che sta per bagno, no? Winchester, cioè, c'è proprio, è troppo perfetto, ho trovato proprio il nome suo, allora, guarda, quindi programma questi dementi che gli stanno dietro, che non capiscono che dietro c'è Winchester, questo vivi, questo rivoluzionario, e gli dice, gli schieramenti sono già definiti, è non certo per nostra scelta, questa è una guerra psicologica, sì, se vuoi morire, questa è una guerra psicologica, sì. Nella testa della gente il sistema vuole che ci siano due schieramenti, ed è sufficiente che riescano ad imporre tale idea ad uno solo dei due fronti, non importa che ci definiamo diversamente, fanculo, coglione, coglione, fanculo, fanculo, fanculo le tue etichette, stronzo, il sistema ha già convinto il primo fronte, cioè i morti, a darci quel nome, non potremo evitarlo, fanculo, coglione, te lo peter, novax, in culo, il nuovo ordine mondiale vuole imporre i v e vede nei morti i loro nazi sostenitori da mandare contro i novax, che non vogliono questa imposizione, se non siete disposti a farvi la merda che chiamanovi, sarete sempre definiti novax, non c'è nessun modo di impedirlo. What about this motherfucker? E infatti ho spiegato a questa persona, fieri di essere, scusa, è come se qualcuno, io ho spiegato e ho detto questa cosa, è come se qualcuno ti chiama merda per strada e tu ti giri. No, coglione, non lo devi fare, è deficiente, non lo puoi fare, perché una volta che lui ti ha imposto quell'etichetta là, merda, ti tratterà da merda, non ti devi girare quando ti chiamano merda, coglione, non lo devi fare, perché questa è un'etichetta molto pericolosa, perché come ho detto, una volta che lì in Ruanda 95, quando cazzo è stato, non lo so di preciso, una volta che gli hanno messo l'etichetta di scarafaggi a loro, l'altra fazione è andata e li ha ammazzati senza problemi. Farsi mettere l'etichetta novax, demente, significa farsi ammazzare, coglione, perché questo significa che tu li stai ammazzando, ok? Ok, perché non stai prendendo il succo magico, quindi li stai ammazzando tutti, capito? Quindi accettare questa etichetta è accettare la morte, demente, ci arrivi? Quando ti chiamano novax, non ti girare, non ci parlare, non lavorare al livello che vogliono loro, mai! Demente, che non capite, cazzo! Due, complicare le cose aiuta solo il nemico! Quindi complicare così, farsi chiamare in altro mondo, che cazzo, ma tu non vedevi manco chiamame, che cazzo vuoi? Nelle guerre ci sono due fronti contrapposti! Perché la, ovviamente questa demente, che purtroppo non capisce queste cose, tesi, antitesi e sintesi, no? Loro devono creare sempre le due fazioni, che poi controllano e arrivano al loro, al loro obiettivo, no? Sempre! E quindi anche lui adesso te lo sta dicendo, ci sono, in una guerra ci sono sempre due fronti contrapposti e non c'è una terza via! O destra, o sinistra, o niente! E tutti i dementi, ovviamente, siccome vedono i partiti più grandi, sono il destra e il sinistra, scelgo uno, eh, io voglio vincere, non voglio votare questo terzo partito qua che non vince mai! Complicare le cose negando il termine no-vax, introducendo free-vax e altre sfumature, crea divisione, noi vogliamo un unico world order! No, vogliamo acchiappare tutti i pesci, no? Averli in controllo tutti, no? Un unico fronte di opposizione alla confusione, aiuta solo il nemico, la strategia vincente è dare forza al fronte, no-vax! Fanculo! Vediamo se... non c'è bisogno... ok, non c'è bisogno che abbassi... allora... in sostegno dello stesso diritto ad essere no-vax e dire no, per farlo dobbiamo solo deviare il significato, vediamo un po' se l'inquadratura è sempre giusta... ah, quindi mi vedete un po' buio, but nothing I can do about that, you are missing my beautiful face... ok... il civico verso l'affermazione che tale nome vuol dire rivendicare il diritto di dire no ad un trattamento sanitario, come previsto dai trattati sui diritti dell'uomo, questo è un modo semplice e comprensibile da chiunque per attaccare l'azione del sistema! quindi farsi chiamare no-vax, che grande attacco! E far capire anche a chi si è vaccinato che un tale diritto non è giusto, venga perso da nessuno! Terza perle ragazzi, ma io se scrollo se no... allora siamo in guerra e visti i punti di qui sopra dovete scegliere da che parte stare! Fog off! Non destra! Non sinistra! Fog off! Coglione! No, ovviamente sto dicendo dietro a Winchester c'è il sistema, gli dai soldi! In questo contesto negare di essere no-vax significa negare di far parte dello schieramento che lotta contro il sistema nazi sanitario e che lotta per la libertà di dire no! E ovviamente non scegliere! Indebolisci la lotta! Non scegliere! Indebolisci! Non mettersi nelle fazioni che vuole il sistema pro e contro! Indebolisce la lotta! Pesci! Vi vogliamo tutti nella stessa rete! Coglioni mamma mia! Quattro! Freevax! Che vuol dire? In un contesto in cui il vaccino è imposto tramite recati e obblighi? Nulla di chiaro e quindi è debolezza! Il termine freevax che non so nemmeno che cazzo sono di tutti sta cazzo di etichette! Ficcatevele nel culo coglione che sono tutte etichette che crea il sistema stesso e voi come dementi vi mettete queste etichette! Tu sei un essere umano coglione che se non usi il cervello sei una bestia! e da bestia sarai trattata! Finchè non userai il cervello! E' un termine senza senso in questo momento che tra l'altro non ha mai perso veramente il piede in dieci anni perché denota indecisione e confusione! Loro invece sono decisi! Con le bombolette loro andranno lontano! E' il termine di chi vuole restare neutrale sull'argomento e denota quindi mancanza di convinzione nell'affermare il diritto di dire no ai vaccini! Vai fare un po'... come si chiama? Balasso! NOVAX! Oggi è libertà di scelta! Ormai il termine NOVAX indica volere la libertà di dire no al vaccino! A prescindere dalla decisione di vaccinarsi potete quindi senza l'amore definirvi sto cazzo! Sto cazzo! E volervi vaccinare! Allora siamo alla metà minchiate ragazzi! Sesto punto! Chi non si oppone diventa complice! Se il termine NOVAX vi dà l'idea di estremista! Aaaaaah che estremisti NOVAX! Aaaaaah! Che poi i NOVAX sono chiamati anche i Dementics! Sono fatti i NOVAX! E vanno anche a protestare così! E dilagano in questi cazzo di canali... Guarda che roba! In questi canali Telegram che io ho appena scoperto! Telegram ragazzi e gira gente del genere! In canali così rivoluzionari! Dice! Uno gli aveva detto! E che dobbiamo fare se ormai 85% degli italiani vuole questo? Nulla! Ma purtroppo non ho soldi per pagare avvocati tasse e spese per vivere! La strada è quella di vaccinarsi! Questa gente è morta ragazzi! È normale che i morti sceglieranno sempre la via più semplice! E parlare a questi morti qua! E perdere tempo cazzo! Loro vogliono sempre la via più semplice! La via più semplice oggi qual è? Farsi il V! Questo ho preso da Telegram! Chi non si oppone diventa complice! Se il termine Novax vi dà l'idea di estremista! Oh che estremisti! Andando con le bombolette a scrivere vi fanno male! Sappiate che l'estremismo è solo nell'essere da una parte dello schieramento! e non in mezzo! E se questi due schieramenti fossero in realtà non schieramenti perché sono tutte e due del sistema? Demente? Ci ha mai pensato? Ed è quello che dobbiamo fare! Fargli capire che noi siamo dalla parte che si oppone ai loro piani perché se non esiste una forza che li contrasta andranno avanti senza ostacoli! E voi siete ostacoli! Cioè le bombolette loro sono gli ostacoli! Penneggia! Non dobbiamo subire! Ovviamente ragazzi a chi piace questo tipo di non fare niente? Ai dementi che non vogliono fare un cazzo ragazzi! Che se pensano che basta avere un penarello come quell'altro là ah basta avere un penarello nero ovunque vedete i QR code metteteci un puntino e fermerete il sistema! Ecco queste sono le minchiate che piacciono ai morti! Ah posso cambiare il sistema semplicemente con un click o semplicemente con un penarello, con un puntino! Cioè proprio anche la font più piccola che esiste è il puntino! Pecola dai! Devi scrivere qualcosa ma ti facciamo scegliere la cosa più facile da scrivere! Devi fare solo un puntino! Solo un puntino! E cambierai il sistema solo con un puntino! Chiamerò questo video il puntino! Ponte ciso! Non dobbiamo subire il linguaggio! Cercare di cambiare questa etichetta è una battaglia persa! Che cazzo vuoi? A coglioni! Ma via qua! Prova a chiamarmi merda! Ah potremmo... Invece di... Potremmo anche chiamarmi merda questo video perché farsi mettere questa etichetta che vogliono loro, Novax è esattamente! È come se qualcuno per strada chiama a merda! E tutti i giri! E tutti i coglioni che vanno dietro a questa merda che ovviamente è VC merda! È tutto preciso, perfetto! Che ne so... Stavo a dire qualcosa... Una battaglia... È una battaglia persa che dice... Un gesto qua! Fai quello che ti dico io! Per cui la strategia vincente è ribaltare la cosa e farla diventare un punto di forza! La merda è buona! 1984, pur ragazzi! Ma i dementi dormono! C'è la libertà... La schiavitù è libertà! La guerra è pace! Cazzo! Quindi farsi chiamare merda! Ma fa benissimo! Il diritto di dire no! Otto! Siamo alla fine! La forza è nella convinzione! La manipolazione mentale del sistema dà un'accezione negativa al termine di Vax! Perché vuole imporre il Vax! Negare di essere un Vax significa cadere nella manipolazione mentale del nemico! Oh! Marcel! Il nemico ti sta manipolando a non prendere parti! Fuck you motherfucker! Fuck you nelle vostre parti! Andate voi come coglioni, come zombie nelle loro parti! Nelle loro parti, guarda! Queste sono le corna! Le due divisioni che fa sempre il nemico! E voi prendete sempre parti! Che sono un terapeutista o un terraglobista! Che sono un Novaxo o un stoccazzo! Che sono pro-aborto o contro-aborto! Che sono pro questo o pro quell'altro! Fuck you! I am fucking me! Se, se invece, se invece, se invece, non andiamo fieri possiamo convincere altri che siamo nel giusto! Che cazzo vuoi convincere i morti?! Annaggia! Che cazzo vuoi convincere i morti?! Incredibile! Vogliono convincere i morti! Sono già morti! Damente! Che cazzo vuoi convincere?! Convincere altri che siamo nel giusto?! Perché abbiamo... E questo è uscito bello! Perché abbiamo il diritto di dire no?! No, io non parlo a chi mi chiama merda! Non te parlo proprio! Quando qualcuno... ti dice... che per mangiare... ti devi avvelenare... io non ci voglio! Fa parte a... Cioè... è come se qualcuno, no? Ti tratta veramente di merda, no? E tu ci stai ancora insieme, no? E questo, purtroppo, sono cose che facciamo! Perché... ci vogliamo male! O nel mio caso, perché anch'io lo faccio questa cosa qua! Proprio perché non riesco a trovare il coraggio che... per fare! Che altrimenti... sarebbe veramente da vomitare qua! A dire no a qualsiasi trattamento sono i temi! Compreso! No, e penultimo! Ritorcere le armi del nemico contro di lui, se pensate che il termine NOVAX indichi degli estremisti, è perché loro ci vogliono far apparire così! Ma se noi portiamo con orgoglio quel nome, allora faremo apparire loro come estremisti, invasati, vaccinisti e vaxmaniaci, che dir si voglia, se il sistema cerca di farci incacchiare, dandoci dei NOVAX e improvvisamente noi ne siamo fieri! Eccola che il culo, che il cazzo in culo ti piace! E lo senti comodo nel culetto e ti cominci anche a muovere così proprio lo senti meglio! Questa etichetta ti comincia a piacere e tutti ci strofini in questa etichetta che ti piace! Il sistema perderà! Quando te lo metterà nel culo perderà! Cioè di accettare l'etichetta NOVAX! Quell'arma per colpirci e verrà disarmato! Il sistema... No! Si sono fatti chiamare NOVAX! No! Cosa posso fare adesso? No! Mi hanno fregato! Si sono... Hanno accettato di farsi chiamare NOVAX! Oh! Come possiamo... No! Abbiamo perso! Abbiamo perso! Si sono... Hanno accettato l'etichetta NOVAX! Cosa possiamo fare? Niente! E' finita! La chiave ragazzi arriverà da Winchester! Su quel fronte... Siamo fieri di lottare per poter dire NO! Poi anche il termine NO! Dire NO! Chi è che dice NO ragazzi? Un bambino! Non vuoi la pappa? No! No! Vuoi questo? Dobbiamo andare... Devi lavare i denti! No! Dobbiamo andare dal dentista! No! Dobbiamo vestirci perché poi dobbiamo andare... No!